venite a trovarci nel nostro showroom Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto il comune di Cavare Tirreni e la società della Cavese si adopereranno alla cremente per assicurare che lo stadio Simonetta Lamberti abbia tutte le condizioni di sicurezza necessarie per il ripescaggio della società in Serie C come richiesto dalla Lega Pro ed è soprattutto la videosorveglianza la questione da risolvere A tutt'oggi le parti non sarebbero ancora d'accordo, amministrazione comunale e società proprio sulla questione videosorveglianza Secondo i legali del comune la Cavese dovrebbe farsi carico degli interventi ma sebbene i tempi si stiano riducendo, c'è comunque fiducia affinché si possa giungere a un'intesa Ciò che occorrerebbe da poter allegare alla domanda di ripescaggio è l'approvazione del parere favorevole anche con prescrizione da parte del questore In pratica la situazione sarebbe abbastanza simile a quella configuratasi due anni fa e la certificazione allora fu concessa Già questa mattina una delegazione dell'amministrazione comunale aveva in programma in prefettura a Salerno un incontro per sottoporre ai funzionari la documentazione che servirà per ottenere l'ok sull'utilizzo dell'amberti Intanto per quanto riguarda la questione Coppa Italia Team di cui si è fatto addirittura un gran parlare in questi giorni la Cavese avrebbe priorità sebbene il Taranto, per bocca del suo vicepresidente avesse dichiarato a mezzo stampa la propria probabile partecipazione alla manifestazione nazionale Nel momento in cui la società biancoblu dovesse ricevere l'invito dalla Lega per iscriversi alla Team Cup sarà a discrezione sua decidere di accettare o meno Il primo turno sarà previsto per il 29 luglio salvo anticipi o posticipi